Domenica prossima al Palasele, il Memorial Bracciante, tantissimi atleti pronti a partecipare a questo evento che va avanti da tanti anni e che insomma richiama tantissima gente sempre. Sì, domenica abbiamo la 31esima edizione del Memorial, quindi oramai sono 30 anni che svolgiamo questa competizione che poi tra l'altro è la competizione di arti marziali più premete d'Italia, tra i premi e medaglie, tra coppie e medaglie da Presidente della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Gioventù, Palazzo Madama e in questa edizione sarà la 31esima e verranno atleti da tutta Italia, quindi dalla Lombardia alla Sicilia. Tanti atleti, una manifestazione che si svolge in provincia, una struttura ovviamente capiente, accogliente insomma il rammarico è non poterla fare a Salerno. Purtroppo sì, purtroppo sono oramai già quasi dieci anni che siamo fuori Salerno per questa competizione, calcoliamo che coinvolge oltre 2.000 atleti e quindi di conseguenza in due giorni circa 10.000 spettatori, quindi a Salerno purtroppo non abbiamo una struttura adatta e sono circa dieci anni che la svolgiamo al Palasele che è la struttura che più ci contiene. Quanti saranno e che fascia di età? Allora, questa qui è una gara prettamente preagonistica, quindi saranno dai 3 anni ai 12 anni, quindi sarà una gara giovanile ed è un trofeo ufficiale federale della Filcam. Si presumono intorno ai 2.000 atleti anche quest'anno, la media è stata sempre più o meno quella e appunto, come dicevo, vengono da varie parti della penisola. Appuntamento? Appuntamento alle 9 di mattina e il 28 maggio al Palasele di Eboli.